Non è un anticipo dei botti di fine anno, bensì gli artificieri che hanno fatto brillare due bombe della Seconda Guerra Mondiale. Sono state ritrovate in questo campo alcune settimane fa dal proprietario che ha immediatamente avvisato le autorità preposte. Siamo a Cigiano, frazione del comune di Civitella in Valdichiana. Le bombe sono state fatte brillare in tutta sicurezza alla presenza dei carabinieri e del personale dell'esercito italiano.